Terza vittoria in quattro gare per la Becquery Basket Piacenza che nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B ha piazzato il blitz sul parquet di Montegranaro. 64 a 56 il punteggio finale in favore dei ragazzi di coach Campanella che hanno condotto la sfida sin dalle prime battute chiudendo sul più 7. Per i biancorossi un super parziale da 8 a 20 ha indirizzato la partita nel secondo periodo e dopo la rimonta gialloblu aiutata da un blackout del palazzetto che ha interrotto la partita per 10 minuti abbondanti la freddezza e l'esperienza hanno fatto il resto. Sugli scudi Birindelli, Bruno e Dezzardo autori delle tre doppie cifre. Una prova di forza in grado di infondere nuove certezze alla compagine biancorossa e soprattutto speranze sempre più forti per un torneo da protagonisti. La Becquery schizzata ora al secondo posto alle spalle della matricola terribile Ozzano ancora a punteggio pieno scenderà nuovamente in campo domenica prossima. Al palafranzanti arriva Porto Sant'Elpidio.